Ciao a tutti ragazzi, è un nuovo video, oggi siamo al tutorial numero 45 e ritorno alla domanda, come riesco a scendere uno scalino? Oggi faremo un mini tutorial di frischetti in paese e vedremo di analizzare questa parte qua proveremo a scendere da questo scalino qui quindi come si scende banalmente da uno scalino? beh, abbastanza semplice la scalina, importante ma non sta a scendere in questo modo salgo e poi scende in scendere come mi suggeriva Resia e come scende da un marzo di pedra va bene a qualsiasi parte, poi proveremo anche un marzo di pedra comunque, cosa faccio? io sto salendo, appoggio un piede petto il pedo su questo piede e cambio, ok? è importante che sia stato qua, ve lo faccio vedere a questo punto, scendo e poi mi dite ma questo fa schifo me, trick in realtà potete modificarlo, vi faccio vedere salgo, appena scendo pum e giro vi faccio vedere appoggio qui faccio questo e scendo schiacciandomi sulle gambe salgo, appoggio la gamba giro e scendo faccio vedere solo questo momento qua quando sono qui ok, cosa devo fare? devo fare la rotazione in questa maniera con tutte e due le gambe e porto giù quest'altra colpo di reni e mi sto muovendo ok se avete in prova venuto a fare questa cosa qui potete farla anche saltando salgo su scendo piego tanto le ginocchia beh, è semplice qui si va con dentro perché se da qui perdi il controllo facilmente evito di farvi troppo male perché sono già basso se scendo così a parte il rimbalzo e controllo male il corpo così ammortizzo controllo meglio il corpo e se dovessi cadere il mio sedere è vicino a terra quindi vi faccio vedere primo scendo ma potete anche aumentare ancora per esempio io volo direttamente al testo basta che vediamo un po' di esperienza e potete farli io l'ho fatto molto difficile per far vedere la bocca perché ho fatto salgo e scendo di traverso se andavo dritto era più facile che vuol dire andare dritto? in questa qua vedete nell'angolo una cosa carina è fare questo riparto primo gradino anche ora si scende un piede avanti quindi un piede scende che sia il destro o sinistro uguale quindi se siete destri non si deve mettere il destro perché ci sta spedendo il peso se siete mancini vi consiglio di metterci ovviamente il sinistro perché ci mettete bene il peso una volta avete dominato se vi sentite sicuri l'importante è questo ci mette nei due piedi quindi velocità piego ci salto piego poi vi consiglio di passare in questa qui al secondo gradino ok questa è una nota molto importante che la vista spina e funziona passa al secondo gradino vicino torna al primo piego 180 ok quando vi sentite sicuri come vi fare al terzo al quarto dove volete questo è un salto o un trick di incrociare le gambe ok quindi questo è un po' il trick che potete fare ma potete fare anche un aggancio doppio come si fa l'aggancio doppio arrivo attacco e scendo ok che se è avanti che se è un 180 cambia poco quindi un 180 è così sempre arrivo aggancio e giro ok però anche questo va preso per il gare prendo il primo primo un piede ok tac 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 ancora forza uno due cento ok vedete che non mi sento sicuro e provo la giancio arrivo ok vedete ogni cosa si parte da esercizi partire chiare poi il bello del frischiette con celline vi faccio un esempio salgo davanti salgo al primo gradino ok al secondo e scendo per questo è un po' tecnico perché c'è un cambio diverso di movimento sui gradini quindi non è facilissimo il trick qui arrivo al terzo gradino come vedete se è sbagliato in questo lo tengo non è un grosso problema perché in questo tutto il peso io ero in avanti quindi male male vada io devo solo stabilizzare non mi da far prendere dal panico nel senso che oddio mia cado e mi spacerò delle scale poi cosa faccio riparto e lo riprovo ok vi ho fatto dei piccoli trick che potete fare in piedi su un gradino qua che c'entra vedremo altri trick per esempio posso stare su un piede cioè posso anche incrociarlo il piede ok come avete visto questo video è storizzato con un telefono grazie anche a Rebecca veni qua mi ha dato una mano a riprendere ok saluta Rebecca ciao ok lei è una ragazzina di una mia squadra di Certaldo e spero che questo video vi sia stato utile per imparare a scendere in un gradino poi è normale che non cambia niente andare a farlo su un marciapiede come in queste immagini qua avete visto l'emba in cui c'entra un marciapiede quindi spero di aver risposto a questa domanda mi raccomando iscriviti al canale che è la campanellina vi vediamo pronto ciao ragazzi